Buonasera, sono Fausto Letame e sono qui per presentarvi il mio secondo album Indomabile che come il primo, te lo metto un minuto nel cuore, preserva il concetto del minuto a canzone perché un minuto? vi domanderete voi. Come mai questo Fausto non si spreme di più? Non ha voglia? Certo che ha voglia, ma in questa società che corre a ritmi frenetici c'è bisogno di esprimere i propri concetti nel più breve tempo possibile i giovani non ascoltano più e io per rimanere in presso a tutti, per sempre qui dentro, ho bisogno di fare presto e in un minuto io riuscirò anche questa volta a rimanere per sempre nel cuore. Buon ascolto a tutti.